Nel cuore della notte, nell'oscurità dell'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, c'è un'ombra di preoccupazione che avvolge l'anima di tutti. È il silenzio dei social media di Fedez e Chiara Ferragni, interrotto solo dalle parole di suo padre, Franco Lucia, che gettano luce su una situazione che rimane incerta. Questo è Italian Reporter 24, il tuo canale di informazione, cronaca e approfondimento. Le condizioni del rapper, la cui voce ha incantato le masse, rimangono fragili. Due interventi chirurgici in poche ore, a causa di un'ulcera anastomica che ha messo in pericolo la sua vita, ancora una volta ci costringono a trattenere il respiro. Le suture del precedente intervento del 2022, necessario per sconfiggere un cancro al pancreas, hanno ceduto e ora ci troviamo di fronte a un nuovo capitolo dell'incertezza. Se poteste mandare un messaggio a Fedez in questo momento, cosa gli direste? Lasciate il vostro messaggio nei commenti per mostrargli il vostro sostegno. Il padre, con gli occhi pieni di angoscia, parla alla stampa, cercando di trasmettere una speranza fragile, ma la realtà è implacabile. Franco Lucia dice, dobbiamo essere forti per lui, ma le parole sono come sabbia che scivola tra le dita, incapaci di fornire una presa sicura sulla situazione. Anna Maria Berrinzaghi, la madre di Fedez, non nasconde la verità amara, sta un po' meglio, così così. Non c'è spazio per le illusioni. La strada verso la guarigione è impervia e tormentata. La tragedia di Fedez si è manifestata in un istante, una corsa contro il tempo, con trasfusioni di sangue e interventi chirurgici d'urgenza. Il futuro rimane oscuro, e parlare di dimissioni è un sogno lontano. Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi notizie e aggiornamenti. In un mondo che un tempo si inchinava al ritmo delle sue parole, ora il silenzio avvolge il rapper. La sua voce, che un tempo riempiva gli stadi, ora cerca di farsi strada tra i corridoi dell'ospedale. E mentre aspettiamo con il cuore in gola notizie che speriamo siano positive, seguiteci per rimanere aggiornati iscrivendovi al canale Italia Reporter 24.